Il tempo è venuto. Il tempo è venuto. Il tempo è venuto. Per ottenere questa armatura e dopo aver ottenuto le 5 monete scintillanti non dovete far altro che venire in questa zona, avvicinarvi a questo distributore e interagire appunto con il distributore stesso. Una volta fatto questo apirete la porta nascosta. E otterrete un'armatura di Iron Mouse. E il trofeo sbloccato è Veni, Olfici, Vici. La prima macchina a fusione la troverete immediatamente dopo il primo checkpoint del gioco. E dovrete raggiungere la prima macchina a fusione esattamente nel punto dove vi sto portando. Esattamente qui. Qui troverete la prima macchina a fusione. Vi ricordo che le macchine a fusione, dato che qui non si vede perché l'ho già distrutta, sono delle sorte di gru gialle con 4 gambe. Quindi sono molto facili da vedere perché sono abbastanza grandi. La seconda e la terza macchina a fusione le troverete esattamente in questi due punti. La seconda in questo punto. Lo vedete anche nei rifiuti. E la terza subito qui vicino in questo punto. Esattamente qui. Macchina a fusione numero 4 dove vi consiglio di utilizzare la tuta liquidator che vi rende immuni al veleno perché nella zona dove andremo ad affrontare la quarta macchina a fusione saremo in questo punto preciso di questa zona dove il terreno appunto è contaminato. Utilizzando appunto la tuta sarete immuni dal veleno. La macchina a fusione numero 5 dovete tornare indietro dopo aver ottenuto il componente per il vostro drone che vi permetterà di aprire questa porta. E la macchina a fusione la troverete esattamente in questo angolo. Esattamente dove mi trovo in questo angolo. Il tempo e la fatica per ottenere questa armatura non sarà sprecata perché avremo la possibilità di equipaggiare l'armatura di Iron Mouse a consumo zero e quindi zero consumo di energia nucleare ma soprattutto ha delle ottime abilità difensive per quanto riguarda la difesa da taglio, da impatto e da fondo. Con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto e vi sia servito mi raccomando iscrivetevi un grosso saluto da Walter e ciao a tutti.